in questo quarto episodio della reincarnazione che non esiste la reincarnazione è un mito in usorio oggi ci concentreremo su sulle parole scritte nel libro di natuzza riguardo questo argomento ma impegniamoci un attimino a leggere anche questo passo molto importante che ho aggiunto da poco nell'articolo richiamiamo sempre la divina volontà rivelata luisa picareta da gesù a parlare noi a pensare noi ad ascoltare noi a respirare noi a battere nel nostro cuore affinché queste parole possano essere di riparazione per coloro che hanno dubbi riguardo della reincarnazione perché possano essere riparazione nei confronti dei cristiani che accettano la reincarnazione ma allo stesso tempo stanno negando il sacrificio salvifico del nostro signore e re gesù cristo secondo la chiesa è possibile la reincarnazione c'è un pronunciamento su questo il rifiuto della reincarnazione nasce anche da una sana considerazione filosofica ma la chiesa ha espresso il suo pensiero nettamente negativo in tutto il suo insegnamento tradizionale soprattutto sulla base del dogma della retribuzione immediata e quindi anche nel giudizio particolare l'attuale contatto con le religioni orientali ha reso più necessaria una presa di posizione per eliminare dalla mente dei fedeli ogni possibile infiltrazione di una teoria che in alcuni esercita una certa suggestione il concilio vaticano secondo nella lumen gentium parla del corso irrepetibile della nostra vita terrena citando ebrei 9 27 in cui si afferma che per gli uomini è stabilito che muoiono una sola volta dopodiché viene giudizio il catechismo dei vescovi tedeschi dice che la reincarnazione contraddice in pieno la sacra scrittura e la tradizione della fede della chiesa la funzione fondamentale della reincarnazione la totale purificazione può essere espressa nella concezione cattolica del purgatorio dal libro natuzza evolo le anime del purgatorio di don stanzione quale differenza col sistema della reincarnazione nel quale il mio io attuale espierebbe inconscemente delle colpe commesse da un io anteriore e di cui io non custodisco il minimo ricordo le anime del purgatorio non chiamano mai le loro pene punizione esse al contrario le amano talmente sono calme rassegnate alla volontà di dio che esse amano ardentemente di un pur amore accettando con solerzia le loro sofferenze considerando come una grande grazia di essere in quel luogo ancor più e la dice se si proponesse loro di comparire davanti dio con la minima macchia esse preferiscono precipitarsi mille infermi piuttosto che di comparire così davanti alla maestà divina e perché esse vedono che il purgatorio è destinato a cancellare queste macchie esse vi si gettono volontariamente e riconoscono che è una prova della misericordia infinita di dio che permette loro con questo mezzo di allontanare con questo ostacolo le anime del purgatorio soffrono non solamente con l'assegnazione ma con amore e il loro più grande desiderio e di vedere dio la più grande sofferenza delle anime del purgatorio ci dice il beato suarez grande teologo e di essere private e questo per loro colpa della visione di dio loro sovrano perché esse hanno offerto pochissime soddisfazioni con le loro colpe nel corso della loro vita è negletto i tesori dei beni eterni non immaginiamo che il purgatorio duri poco nostro signore ci avverte nel vangelo che il debitore non uscirà di là prima che egli non abbia pagato fino all'ultimo soldo matteo 5 26 nessuna lingua potrebbe comunque dire quanto esse soffrono sant'ommaso d'aquino scrive il minimo tormento del purgatorio è più grande del più volo più violento dolore sulla terra è vero che le anime del purgatorio amano dio di un amore ardente e che esse sono contente di soffrire esse sono anche visitate e consolate dalla santissima vergine dagli angeli dei santi abbiamo anche noi con passione di queste povere anime che non possono procurarsi da se stesse il minimo sollievo se non vorremmo dopo la nostra morte sentire questa parola un giudizio senza misericordia sarà portato contro colui che non eserciterà la misericordia siamo quindi chiamati a esercitare tutti la misericordia il perdono all'amore e a fare la volontà di dio questa santissima volontà di dio che siamo tutti chiamati a fare e a vivere e per vivere la volontà di dio dobbiamo necessariamente conoscere la rivelazione della divina volontà rivelata luisa piccarreta io vi lascio con questa splendida lettura e vi aspetto nel prossimo video dove andremo a continuare la lettura contestando tutti quei punti che sono presenti nella bibbia dove si parla della reincarnazione nei confronti di elia del ceco e di tutti quei passi che i falsi profeti e reincarnazionisti portano nelle loro conferenze nei loro video e nelle loro testimonianze sia notato gesù cristo esercito